Allerta che cammina, lotta transfeminista da una sera alla mattina Che tremi, che tremi, che tremi ogni fascista Oggi Roma è transfeminista Una con una di meno Insieme siamo partiti, insieme torneremo Per me è una buona notizia perché comunque il tetto di cristallo qualunque donna la rompa è sempre bene che sia rotto Il problema è che si dovrà comportare da donna e fare politiche per le donne Fino adesso non l'ha mai fatto E Dio, Padre e Famiglia, non è certo una politica femminile E suona un po' questa come la prima manifestazione contro questo governo Che non si è ancora insediato Ma questa è una manifestazione che serve a dire Le donne italiane stanno in piazza, hanno gli occhi aperti, le orecchie aperte E soprattutto sul loro corpo non faranno decidere a nessuno Il nostro corpo è nostro e nessuno deve metterci mano Grazie Grazie